E' veramente assurdo, veramente incredibile, veramente da film. La mia macchina dei desideri non è sincronizzata con quella del lavoro, o quella sociale, del giusto ed illegale. La mia macchina dei desideri produce molti comportamenti e molte domande, ed è la sola di cui abbia rispetto. Che ci crimini al giorno, e seremo nostri! Che ci crimini al giorno, e seremo nostri! Non sono un ospite del vostro sistema, ma sono solo derubato del mio, mentre voi state morendo, uccisi dalla tristezza. Che ci crimini al giorno, e seremo nostri! Che ci crimini al giorno, e seremo nostri! Inventerò me stesso, non usando il linguaggio dello scambio, il desiderio non vuole scambio, ma sono il punto e il dono. Che ci crimini al giorno, e seremo nostri! Che ci crimini al giorno, e seremo nostri!